Ciao, buongiorno, sono Marco Cavallo e ti do il benvenuto qui nel mio ufficio. Questo messaggio per invitarti a un evento che si terrà tra circa un mesetto dedicato al mondo della conciatura e dell'estetica, ma non solo. Insomma, è un evento molto importante dove potremmo parlare un attimino, discutere di quello che sono nuove opportunità che questi settori offrono. Come alcuni di voi sanno, io sono un informatico, mi occupo di informatica ormai da tanti anni, ho la fortuna di visitare, frequentare tanti centri estetici, tanti saloni di acconciatura, ma anche diverse multinazionali, cioè quelle, voi sapete cosa sono le multinazionali, sono quelle società che offrono i loro servizi, i loro prodotti al mondo dell'acconciatura e all'estetica, ai saloni, ai centri di estetica. Vorrei che ci trovassimo, che io da parte mia vi parlerò molto, molto brevemente di quelle che sono le opportunità dal punto di vista software, di ciò che la tecnologia vi propone e che poi anche queste multinazionali vi proporranno, vi faranno vedere nei mesi che verranno. ma altresì vi darò come chicca un paio di opportunità molto, molto particolari, molto speciali, davvero molto persuasive per chi opera in questi settori. Uno per il mondo dell'estetica, è un altro prodotto, servizio, chiamiamolo così, per il mondo dell'acquaferra. In questo incontro non vi chiedono nulla, sarà tutto gratis, ci sarà da mangiare e da bere ovviamente, ma sarà veramente un'opportunità per tutti voi di poter approfondire delle cose davvero, davvero particolari, in anteprima davvero speciali. Quindi, io vi rinnovo l'invito a partecipare a questo incontro, si terrà a Udine, se mi dite che ci sarete, affinché io possa un attimino predisporre e preparare al meglio questo incontro, vi dirò anche la location, il giorno e l'ora in cui si terrà questo incontro. Non mancate, è davvero un incontro speciale, un primo incontro, la prima volta che ci incontriamo, senza impegno, senza nessun impegno da parte vostra. Io ho finito, mi raccomando, scrivetevi una mail, non ve ne pentirete, ok? Venite, dai, che ci facciamo un paio di cose molto molto interessanti. Ciao, 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 ciao.